Presidente Teresa Cannavaciola, Nuovo Orizzonti, la sua associazione per il terzo anno consecutivo organizza il premio Atenelemia. Un grande successo con gli altri anni, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto le cose in grande, ci sarà un'organizzazione di professionisti, abbiamo deciso di farlo diventare nazionale perché una cosa se deve durare negli anni deve crescere anno dopo anno. Quest'anno ci sarà l'emmanagement con Rosario Porzio che ha organizzato insieme a me il tutto, il direttore artistico Fabrizio Rivelli e il direttore delle coreografie Antonio Conandrea, un grande professionista della danza. I partecipanti a questa manifestazione diciamo che saranno un po' fortunati visto il successo che ha vinto il premio l'anno precedente che ha partecipato a una Fixon di Canale 5. Sì, stiamo facendo il possibile per dare a questi ragazzi la possibilità di avere la fortuna che ha avuto Ilaria sperando che loro colgano l'occasione e che seguano tutte le direttive di Rosario e di Fabrizio. Qual è il premio per chi vince allora? Allora, il premio è una sorpresa fino alla fine, avranno la coppa che sarà molto particolare quest'anno, ci siamo dati al blu, l'anno scorso tutto era in nero e in russo, quest'anno tutto avrà le tinte del blu del nostro mare e poi avranno un premio o una grossa sorpresa.